Ciao a tutti i lettori di Out of Beat, siamo in compagnia oggi di Retro FC Plus Vi spiego come sono arrivato a acquistare questa cinesata Stavo cazzeggiando su internet, sono capitato su Gearbest, ho visto un clone di un Game Boy classico in vendita a 14€, non ho resistito alla tentazione e all'effetto scimmia Insomma mi sono ritrovato a comprare questo Game Boy cinese Ho atteso qualche settimana per la spedizione, mi è arrivato da qualche giorno, l'ho testato più o meno e insomma sono pronto a parlarvene e a spiegarvi come funziona nella recensione completa Partiamo a parlare della confezione abbastanza piccolina all'interno c'è tutto quello che serve per giocare fin da subito C'è un cavo mini USB da utilizzare per la ricarica della batteria litio montata già all'interno del Game Boy e un cavo AV da utilizzare per l'uscita video È infatti possibile collegare questa mini console portatile direttamente alla TV tramite il cavo AV e giocare su un grande schermo Questo però porta anche a qualche problemino di risoluzione ma ne parliamo più avanti Dentro la confezione non c'è altro Possiamo quindi parlare della componentistica hardware di questa cinesata di Game Boy Premetto che ho cercato un po' di informazioni in internet Non ho trovato assolutamente niente Sulla scatola non c'è scritto praticamente niente Vedete anche qui di come è costruito e di cosa ci sia il suo interno La costruzione è plastica e come vedete il design riprende quello del primo Game Boy È sicuramente molto più piccolo Ma è ben costruito e leggero Insomma è comodo da utilizzare e facilmente trasportabile Sulla scocca troviamo nella parte alta L'uscita AV per il collegamento alla TV La porta mini USB per la ricarica Ed il tasto per l'accensione Parte frontale classica quindi 4 pulsanti di Nintendo Select e Start e la freccia direzionale C'è stato aggiunto un tasto Reset che permette di tornare al menu iniziale Durante le sessioni di gioco Sul lato c'è la piccola rotellina per la gestione del volume L'altro lato è completamente pulito Sulla retro trovo a posto una batteria litio da smartphone Più che da smartphone da cellulare Da 250 mAh che ci permette di avere un'autonomia di circa 6 ore Il pannello è un LCD da 3 pollici Adesso lo accendiamo anche e lo vediamo come funziona Non ho trovato informazioni riguardo a quello che è la componentistica interna Però i giochi sono talmente leggeri che girano senza alcun problema Passiamo ad analizzare il software Una volta acceso il display con il tasto Power Ci si ritrova con questo LCD da 3 pollici abbastanza luminoso E di fatto utilizzabile anche sotto la luce diretta del sole Anche senza però il massimo comfort Ma funziona abbastanza benone se riesce a vedere sempre La prima schermata del software ci mette di fronte alla scelta della lingua inglese Procediamo tranquillamente con l'inglese E qui arriviamo ai 168 giochi installati Ci sono sicuramente i più famosi in versione sempre cinese clone Quindi c'è Super Mario, c'è Donkey Kong, Contra, Double Dragon, Street Fighter, Ninja Gaiden, Pac-Man Insomma Zelda Ci sono tutti quanti i più famosi tartarughe ninja Ovviamente in versione clone per evitare denunce a destra e sinistra Come potrebbe accadere per queste versioni clone delle console classiche di Nintendo C'è da dire che i 168 giochi preinstallati sono tutti diversi fra di loro Non ci sono ripetizioni e quindi questo è almeno un lato positivo I 168 giochi quindi sono effettivamente 168 Non ci sono tre versioni dello stesso gioco Si può andare a scorrere con le frecce direzionali fra i vari titoli Andando ovviamente su e giù si può scegliere un titolo Andando a destra si scorre fino alla schermata successiva Non sono in ordine, sono in ordine puramente casuale Quindi è difficile trovare il gioco che si sceglie secondo un ordine alfabetico O di qualche cazzo di tipo Però insomma ci si riesce ad arrivare Vediamo di trovare un Super Mario giusto per vedere come si comporta la console Mi sembra di averlo già passato Vabbè comunque arriviamo in fondo così vedete che ci sono effettivamente 168 Poi vi lascio sotto il link in descrizione per vedere tutti i giochi installati Ecco qui sono 168 siamo tornati in cima Andiamo di trovare il classico Super Mario Bros Eccolo qui Vediamo se ce la facciamo Ok Avvio molto veloce Se arriva alla schermata principale si può scegliere fra uno e due giocatori Adesso vediamo Si fa partire anche la musichetta I controlli sono quelli classici E' anche abbastanza ben funzionante tutta la mini console I giochi funzionano tutti bene Non ho avuto problemi durante i test Scusate mi sono più impedito del solito Ma con la telecamera davanti non è proprio semplice Tutto funziona bene I giochi ci sono I giochi funzionano Insomma è una console molto pratica e molto comoda da utilizzare magari soprattutto quando siete seduti sul water Anche l'audio è abbastanza buono Esce da questa piccola cassa mono sul fronte E non fa volare al miracolo ma insomma fa il suo Con il tasto reset si torna alla schermata iniziale dove c'è questa musichetta terribile che non avevo mai sentito Perché sono sempre Ho sempre acceso a console senza l'audio iniziale E si ritorna qui si può scegliere tranquillamente un altro gioco Vediamo di provarne uno a caso giusto per vedere che funzionino tutti quanti Ok start E qui c'è il problema ovviamente che come in tutte le famose console 8 bit non si può salvare E quindi è adatto a partite veloci e casuali Ma se avete intenzione di finire un gioco sappiate che non potete salvare E quindi fatevi due conti in tranquillità Ok non ho ben idea di che gioco sia questo ma funziona anche questo qua Come vedete i colori dello schermo sono abbastanza brillanti E' possibile come vi dicevo prima anche collegarlo alla tv Ma la risoluzione diventa da 320 x 320 pixel E insomma diciamo che su un 40 pollici moderno diventa uno stratio per gli occhi Che vi ruberà le dio tre rimaste se ne avete ancora Io purtroppo no quindi insomma vai Quindi vi finirà di accecarvi nell'eventualità Vabbè quindi cosa dire di questa console clone Game Boy cinese Con 168 giochi preinstallati in vendita a 14 euro Beh anzitutto c'è da dire che la costruzione è buona Il display LCD ha un ottimo rapporto qualità prezzo Del fatto ha 14 euro è difficile chiedere di più La console è onesta ed economica È venduta a un prezzo super E grazie ai tanti giochi ci riporterà ai tempi di quando eravamo bambini E sarà sicuramente a regalarci qualche ora di divertimento Non è nulla di speciale ma può essere un compagno di giochi piacevole per qualche ora O anche un regalo apprezzato per un amante del retro gaming Non ho altro da dirvi su questa piccola console Spero di fare presto un'altra recensione di qualcosa di simile Da Vittorio Tiso per Out of Beat è tutto Grazie e alla prossima